Pensioni, invalidità civile, legge 104, ISEE 730, tutela del consumatore. Confartigianato Pescara, nelle sedi territoriali di Scafa e Spoltore, oltre ai tradizionali servizi alle imprese, apre ai servizi alla persona. Da oggi vogliamo aprire i nostri uffici territoriali, quindi l'ufficio di Scafa e l'ufficio di Spoltore, quindi Scafa per la Val Pescara, Spoltore per la parte Vestina, e aprire questi nuovi servizi alle persone. Quindi l'accordo con codici è rivolto proprio a questo. Il classico cittadino può rivolgersi nei nostri uffici e risolvere quei problemi che sono oggi attualissimi, tipo contratti telefonici, contratti del gas che hanno queste clausole capestre. Speriamo con queste ulteriori iniziative di dare un supporto, quindi non solo alle imprese, ma anche alle loro famiglie, quindi tutelare a 360 gradi i loro interessi. La novità sarà poi la nuova convenzione stipulata con codice Abruzzo. A lei il compito di occuparsi di pratiche assistenziali, previdenziali e di tutela, il tutto a titolo gratuito. La convenzione che noi abbiamo fatto con la Compartigianato prevede che noi mettiamo a disposizione di tutti gli iscritti della Compartigianato i nostri servizi, quindi di tutela del diritto del cittadino, e loro mettono a disposizione i loro servizi per i cittadini iscritti al codice. Quindi questa è una prima forma di collaborazione. Naturalmente questa collaborazione prevede che noi usufruiamo delle loro sedi di zona, in questa convenzione è prevista per il momento Scafe e Spoltore, e loro usufruiscono delle nostre sedi, sia di Pescara che delle altre province.